Fortissimo, ha difeso una mano da vanguardere, si vada Nimir, assegna Nimir, in posto 4 per Anderson, che forza, la difesa di Gapet, la palla non cade, si vada Nimir, si vada Nimir, 21esimo punto Modena, 31 per l'olandese. Rossini si salva, una recensione perfetta per Bruno, Erwin Gapet, Murato, la copertura di Abdelaziz, palla per Stankovic, che arpione il pallone e lo mette per terra, 25 pari. Piccinelli per Anderson, che era a terra, e viene Murato, no si gioca, si gioca, la palla è viva Mazzone, gioca, sta lì, Nimir, Nimir, Nimir. Forte Giannelli su Van Gardner, che si salva, Bruno, dietro è scontato per Nimir Abdelaziz, che va a segno, con ogni colpo, con ogni goccia di sudore che gli è rimasta. Palla americano, a cercare Erwin Gapet, che regge, palla dietro ovviamente, per Nimir Abdelaziz, alto, sulla mano esterna, il freddo Leon. Qua viaggiamo verso i 40, caro Filippo, 29-30. E fa punto, sempre, con il muro a due, a tre, a quattro, lo sanno che il pallone va lì, lo sanno tutti, il pallone va lì, Nimir fa punto. 31-29. Nimir è rimbattuto. Forte è c'è l'ace del supereroe, Nimir, Vatel, a tizze, 31-29. Questa leggendaria partita, va al quinto sette. Van Gardner in attacco, il muro, l'autocopertura, Rossini, per Nimir, palla difficilissima, la copertura dopo il muro. E allora ancora da Nimir, ancora da Nimir, ancora da Nimir, sempre da Nimir. La tiene buona Piccinelli, no? La palla è a filo, il contrasto a rete, lo vince Giannelli, poi Anderson, Murato, da Nimir Abdelaziz, e attenzione, sono tre i punti di vantaggio. Si stacca Angapet, Rossini dietro per Abdelaziz, una parallela clamorosa di Nimir Abdelaziz che sbucca dal nulla. C'era un palmo tra la mano di Leone e l'asta, Abdelaziz ci si è infilato, 11-8 Modena. Giannelli, la ricezione di Rossini, Bruno va dietro, da Nimir, da Nimir, la chiude Nimir, una partita epica, è la conquista di Mordor, 15-13 Modena. Che partita incredibile, signore e signore d'ascolto, che partita incredibile. Di Nimir Abdelaziz, prima di tutto e soprattutto, ma di Modena, del gruppo, un gruppo coraggioso, orgoglioso, mai d'uomo.